Mi chiamo Cristian Marangoni, ho 49 anni, sono sposato e ho tre figli. Faccio l'autista di professione e il 2020 è stato diverso dagli anni precedenti perché non mi ha permesso di interagire con le persone ed è una cosa che a me piace tanto. Mi sono mancati i momenti in compagnia con amici e parenti, per questo mi voglio vaccinare perché mi voglio bene e perché voglio tornare al più presto alla normalità, perché voglio contribuire affinché potremmo presto uscire insieme da questa crisi, con il vaccino mi assumo la mia piena responsabilità verso la mia salute e la salute della collettività svizzera.